Salve a tutte carissimi amiche e carissimi amici bentornati sul mio canale come voi ben saprete ormai da un pezzo io ogni tanto vi propongo delle prove da fare sperimentare nuove miscele, sperimentare sempre cose nuove a me piace provare se a qualcuno o a qualcuna di voi non piace vedere queste mie sperimentazioni queste prove come mi è stato detto che io creo degli intrugli se ne può andare direttamente cioè può cliccare e uscire dal video perché io nel mio canale faccio quello che voglio, provo quello che voglio a me piace provare, piace testare se poi una cosa mi piace è bene se poi non mi piace non ci sono problemi, stessa cosa vale per voi se voi la vorrete prossimamente provare a casa vostra lo fate se lo volete provare, se non lo volete provare non è che io vi vengo a chiamare dalle case vostre e vi metto qualche cosa alla gola, dici che tu puoi forza andare a fare la prova del melone io faccio le prove del melone, a me piace provare se a voi non piace non ci sono problemi, potete anche andare a digerire altrove bene, io praticamente vi feci già vedere tempo addietro che avevo provato me lo disse sinceramente una youtuber che lei spolverava con la morbidente quindi non è stata una cosa presa da tiktok quindi me l'aveva già detto lei, una certa analisa che aveva il canale prima mi disse che lei spolverava con la morbidente io vi feci un video dove ho spolverato con la morbidente e non vi nego che siccome a me piace tantissimo cambiare continuamente oltre quello mi piace, cioè io con la morbidente soprattutto con le perle faccio tanti usi come vi ho già detto in altri video si mettono dentro i sacchettini per profumare per profumare le armadi faccio degli spray per la casa, per deodorare io ad esempio stamattina ho dato una maglia pulita a mio marito per il lavoro prima di dargliela sono andata a vaporizzare un po' di Lenore in pebre sciolto in uno spruzzino per dare un profumo maggiore ai capi lo so che non è diciamo il massimo della vita però qualche goccia su una maglia tipo profumo non so maure ecco quindi ho visto questo video su tiktok ho detto lo voglio provare lo faccio vedere allora io sono contraria ai secchi però purtroppo la dose per fare questa miscela è di 2 litri di acqua che io ho già versato nel secchio si mette un tappino di candeggina delicata quella che noi vogliamo io ovviamente uso sto usando la migliore perché a me piace questa andiamo a mettere qualcosa in più perché questo serve no forse assai serve per andare ad igienizzare voi sapete che io la candeggina delicata non è che la amo di più e poi si va a prendere un mezzo tappo di ammorbidente a vostra scelta io ovviamente ho questo qui e metto questo vorrei si possono mettere pure le perle vedete ho messo un mezzo tappo di ammorbidente anche perché 2 litri di acqua non sono tantissimi soprattutto se visti dentro al secchio che ora vi faccio vedere vedete cioè non sono tantissimi bene con questa con questa acqua con questa miscela che abbiamo creato possiamo andare a spolverare possiamo andare a pulire specchi e vetri venite con me in camera da letto e andiamo a provare questa nuova miscela allora vado a fare questa prova su questo ammorbidente dell'ingresso e voglio provare anche lo specchio perché diciamo che sullo specchio potrebbe lasciare degli ammuni visto che c'è la ammorbidente però da quello che dice questa 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 signora vengono bene allora questo è il secchio con appunto la miscela che ho creato andiamo ovviamente a sciacquare lo straccio e andiamo a stizzare mamma mia che profumo mamma mia mamma mia meraviglioso e andiamo a pulire ovviamente ovviamente io vi farò sapere con il mobile che si è bello asciugato eh vabbè che si asciuga nell'immediato mamma mia no vabbè cioè spettacolare spettacolare il profumo è spettacolare che cosa ve lo dico a fare meraviglioso questa miscela non andate ad utilizzarla assolutamente per i pavimenti perché eh sinceramente eh almeno per quanto riguarda i pavimenti miei che sono in graniglia eh la morbidente va a creare come una sorta di patina eh quindi diciamo che la morbidente opacizza a cui non so per quanto riguarda la ceramica però almeno per quanto riguarda i miei pavimenti non va assolutamente bene la morbidente dovete sapere che la morbidente è un ottimo antistatico quindi non ti va a eh formare eh facilmente la polva mamma mia che odore cioè veramente meraviglioso adesso proviamo lo specchio andiamo a risciacquare ma che profumo no vabbè per quanto riguarda gli stracci voi mi chiedete molto spesso gli stracci che utilizzo questo è lo straccio non mi ricordo eh no non è non è il magic il magnetic scusate perché il magnetic eh ne ha presi diversi fucsia eh non mi ricordo questo se non vado errato l'unico se no comunque o pano unico o o titex o eh l'evolution eh microgett evolution eh ce ne sono di diversi tipi eh non mi ricordo questo che panno era non mi fate dire fesivi non mi ricordo ce ne sono diversi quindi andiamo a strizzare ancora di più non mi ricordo comunque questi sono i panni in microfibra che sono capolavoro perché hanno come vi ho detto già in altre in altri frangenti hanno la peculiarità di eh pulire e eh e poi comunque la superficie si asciuga da sola nel frattempo che si asciuga lo spettio che poi vi faccio vedere andiamo in camera da letto allora già che sto mi vado a fare una passata alla porta cioè allora l'odore è qualcosa di spaziale cioè vi profuma la casa di ammorbidente poi anche la candeggina delicata ha un profumo meraviglioso mamma mia che cosa mamma mia meraviglioso davvero meraviglioso è noto che viene benissimo anche la porta quindi davvero top vedete vabbè che a me è sempre lucida la porta comunque non opacizza assolutamente niente vedete la porta risulta non lucida ma di più di lucida adesso vi porto a vedere lo specchio in nell'ingresso che sarà sicuramente asciugato e poi voglio fare una prova sugli specchi dell'armadio e vediamo come vengono allora vi sollevo giusto per far vedere bene lo specchio è venuto un capo lavoro meraviglia 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 non è venuto per niente ma per niente opaco e dentro l'ingresso il profumo è qualcosa di incredibile quindi provatelo perché davvero è una cosa stupenda poi sapete che insomma io non racconto le frottole se mi piace una cosa la dico ma se non mi piace la dico lo stesso passiamo in camera da letto ovviamente dopo che fate alcune superfici l'andate a cambiare l'acqua e mettete un'altra volta perché ovviamente l'acqua due litri è il quantitativo che diceva questa signora è davvero pochissima di acqua scusate ma devo chiudere se no si sentono i tumori di fuori quindi andate poi a cambiare l'acqua perché non è neanche il caso a me già non piace utilizzare i secchi proverò a fare la stessa cosa ma con una bottiglia senza vaporizzare perché a me non piace fare queste operazioni qua allora andiamo a prendere lo straccio mamma mia che odore meraviglioso ecco perché molte volte vi ho detto nei miei video io non utilizzo gli affari che si mettono vicino alle prese da anni 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 proprio perché se la casa è pulita se la casa tu la pulisci tutti i giorni la casa profuma di pulito di detessivi poi soprattutto se si fa questa questa miscela meravigliosa veramente non c'è proprio bisogno di andare ad acquistare questi fornelletti qua con madonna che profumo vabbè che cos' ve lo dico a fa ma sta registrando sì allora andiamo a fare questi specchi io ultimamente non vi nascondo che gli specchi dell'armadio li sto facendo così perché per timore di vertigini di di perdere l'equilibrio sulla scala opto proprio di fare così per non rischiare di cadere mamma il profumo è qualcosa di spettacolare no ma c'è anche anche gli specchi vengono un capolavoro state attente con le dosi non esagerate molto con la morbida perché già così si sente ma non tanto tantissimo mamma mia meraviglia che meraviglia allora andiamo a fare pure quest'altra porta qua è giusto per andare a togliere qualche micro particella di polvere fantastico il risultato è meraviglioso fate il panno molto strizzato così così poi si asciuga subito beh meraviglia 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 cioè non pensavo che anche sugli specchi sinceramente meraviglioso l'effetto bello tutto lucido allora questo è il risultato è venuto perfettamente lucido tutto e non vi dico l'odore l'odore è che cosa è vedete lucidissimo cioè lo specchio è venuto un capolavoro allora spero che questo video vi piaccia una volta ecco ciao la mazza è caduta spero che questo video vi piaccia una volta online con un po' di affanno visto che sono già stanca dopo una notte insonne nulla purtroppo le pulizie si devono fare e mi devo mettere in modalità on come al solito un bacione alla prossima fate questa miscela e poi mi farete sapere nei commenti ciao